Il messaggio che vogliamo lanciare oggi è che comunque le cose si possono sempre sistemare con il dialogo, con la tranquillità e non ricorrendo a violenza. Dopo l'offesa sfondo razzista si volta a pagina così con un amichevole tra le due squadre giovanili, Aretine, Bibiene e Rezzo Football Academy. L'episodio risala la scorsa settimana quando nel corso di un match un giocatore della squadra casentinese, un quindicenne di origini senegalesi, aveva cercato di aggredire un giovane avversario che lo aveva preso di mira con epiteti razzisti. La cosa che ho detto è stata che ha sbagliato completamente, ha perso la partita più importante, la dimostrazione del rispetto, la dimostrazione del stare insieme agli altri. Perché? Condividendo magari quello che lui ha potuto sentire quando è stato offeso, ma non giustificandolo assolutamente per la reazione diciamo violenta. Per lui era così arrivata la squalifica, cinque giornate di stop, ma a fine partita anche le scuse dell'altra società, comprese quella del baby calciatore. Adesso le due squadre di allievi sono scese nuovamente in campo per un amichevole per chiudere così definitivamente questa brutta pagina di sport. Questa storia cosa insegna? Mi insegna secondo me che in fondo e in fine siamo esseri umani, che in fondo e in fine si può sbagliare e l'importante è prendere il buono dagli errori che si fanno. L'importante è che i ragazzi capiscano l'errore che è stato fatto, che riescano a comprendere, a farne esperienza e a crescere il bagaglio e mutare, evolversi e crescere insieme. Grazie.